Ciao amici, benvenuti al canale, bentornati. Questo è l'album dei calciatori 98-99, poi ve lo sfoglio. Questo è un album ancora di formato tascabile, vedete quante figurine belle, una bella grafica. Poi ve lo faccio vedere nel dettaglio. In copertina vediamo Vieri, Birov, il fenomeno Ronaldo Battistuta del Piero. Una bella annata, il 98-99, l'album dei calciatori panini, che troviamo serie A, B, C1, C2. Poi, appunto, come detto, vi faccio vedere nel dettaglio tutte le squadre. Partiamo dalla copertina, come vi ho detto, c'è Del Piero, c'è Battistuta, c'è il fenomeno Ronaldo, c'è Christian Vieri, c'è Birov, i cannonieri delle top squadre quell'annata. Abbiamo quindi il 98-99 e all'interno troveremo serie A, serie B, serie C1 e serie C2. Abbiamo la mitica rovesciata qui simbolica delle figurine panini. Veramente una bella copertina, un bell'album, semplice ma elaborato. Siamo all'interno, iniziamo con il calendario, ormai da qualche annata questa prima pagina è colorata e non è monocromatica. iniziamo con le pubblicità dei telefonini, inizia l'epoca dei cellulari e si iniziavano a pubblicizzare. Entriamo nel merito, abbiamo la novità dei nuovi acquisti, le figurine dei nuovi acquisti e la cosa principale è quella di impiegare più pagine e non le classiche due per le squadre di serie A. Iniziamo col Bari, la schierata a due figurine e poi c'è lo scudetto, quindi la prima pagina è dedicata anche con la storia del club. Quindi abbiamo le prime due pagine piene di figurine e della squadra in questione e tabelline curriculum sotto ogni figurina e ancora un'altra squadra con altri giocatori più lo spazio per i nuovi acquisti. In più, quindi poi affiancato abbiamo già l'inizio della squadra successiva e abbiamo qui naturalmente qui non ci sono attaccati i nuovi acquisti perché magari all'epoca dell'uscita della raccolta comunque la raccolta si presentava in questo modo e l'Anastatica appunto ci presenta l'album come era nell'originale quindi non abbiamo le figurine attaccate dei nuovi acquisti perché poi era soggettivo metterli in una o un'altra posizione. Quindi andiamo al Bologna e vediamo il Bologna del famoso Eriberto, ricordate il caso di Eriberto archivo dell'età, della nazionalità, insomma un caso intricato per i calciatori della Serie A e quanto riguarda i passaporti, tutto ciò, tutto quello che ne conseguiva. Qui per esempio abbiamo due nuovi acquisti attaccati perché erano già appunto certificati e posizionati appunto in un certo modo, già in partenza erano stabiliti all'uscita della raccolta. Siamo al Cagliari, era il Cagliari di Callon, il Cagliari di Cristiano Zanetti, di Muzzi, O'Neill, vedete qui nessun nuovo acquisto, poi una presenza dell'Empoli in Serie A che non era una cosa frequente, l'Empoli dell'attaccante Zalaieta che poi farà anche le fortune del Napoli della rinascita, della ripromozione in Serie A negli anni dopo il 2000, 2006 a seguire, insomma, Zalaieta qui giovane in prestito all'Empoli dove ha appunto, se non sbaglio, esordito in Serie A. Abbiamo ancora la Fiorentina che è la Fiorentina di Edmundo, di Bettarini e Torricelli e la Fiorentina soprattutto di Battistuta e Oliveira in attacco, quindi una gran squadra. L'Inter, l'Inter del fenomeno, Ronaldo che non ha bisogno di presentazioni con Pirlo che saliva in cattedra, in regia, rispetto a solo l'iniziale che era trequartista. E qui abbiamo anche attaccati due nuovi acquisti, la Juventus, la Juventus di Del Piero con Zidane e Antonio Conte alla mediana e tanti altri giocatori, Ciro Ferrara. E poi, anche qui, ci sono due nuovi acquisti, Thierry Henry, ad esempio, tra gli altri, e la Lazio, la Lazio, la Lazio di Della Pegna, di Nedved e di Salas, ancora in attacco Roberto Mancini, Vieri e Boccosic, un grande attacco per la Lazio. Il Milan, invece, è il Milan di Oliver Bilhoff, che il Milan l'aveva preso in virtù delle sue performance di gran cannoniere nelle annate precedenti, ad esempio, con l'Udinese, con il giovane Morfeo, c'era Ambrosini, Leonardo. E poi, la volta del Parma, il Parma di Crespo, di Verona, di Robaggio, Tino Aspriglia e Abel Balbo, il Perugia in Serie A, il Perugia di Rapace, tra gli altri, Nakata, giapponese che faceva sempre la notizia, che hanno in Serie A, qui, quattro nuovi acquisti, poi abbiamo il Piacenza, che era il Piacenza di Stroppa, di Simone Inzaghi, ad esempio, Simone Inzaghi, in attacco con Rastelli e Rizzitelli, che tornava dall'esperienza all'estero, insomma, un po' a fine carriera, dopo le sue performance nella Roma e nel Torino, insomma, un calciatore che andava quasi a chiudere la carriera. Poi abbiamo la Roma di Totti, che è durata tanto, ma era, diciamo, da un paio di annate ormai la Roma di Totti, con Daniele Conti, il figlio del più grande Bruno Conti, ma anche la Roma una buona squadra, con del vecchio Gautieri e, insomma, una squadra di alta classifica, ecco, non top club, forse, la Salernitana, in una delle sue apparizioni in Serie A, la Salernitana di Marco Di Vaio, abbiamo la Sampdoria in decadenza, come erano, appunto, le grandi dei primi anni 90, tra cui le grandi, diciamo, di quell'epoca, che poi non erano solite ad essere in alta classifica, come il Napoli, ad esempio la Sampdoria, il Napoli ormai era già retrocesso in Serie B, la Sampdoria in fase calante, ma che ancora aveva giocatori di talento come Ortega e Montella, tra cui anche Pecchia, e poi l'Udinese, che è orfana di Bilov, però aveva comunque Locatelli in attacco, lo andava a sostituire con Poggi, e il Pampasosa, e aveva ancora in squadra comunque Amoroso, che era stato in coppia con Bilov e avevano fatto bene. Il Venezia è un'altra, diciamo, squadra di Serie A, tra virgolette, occasionale della categoria, il Venezia di Svok, Maniero, insomma. Poi abbiamo anche il Vicenza, il Vicenza che in quell'annata, e anche esso era una squadra che in Serie A era stata, era fatto bene anche, arrivata in finale di Coppa e ha vinto la Coppa Italia, però era comunque in fase calante. I protagonisti del calcio, come erano e come sono, una bella rubrica sui calciatori, le figurine, di come apparivano agli inizi delle figurine panini, ad esempio agli inizi della loro apparizione sulle figurine panini, e come sono poi oggi, oggi, chiaramente, relativamente all'epoca di questo album dei calciatori. E quindi Aldair, Baggio, Bergomi, Balbo, Columba, Asma, Fascetti, di quanti ce ne sono tutti, tantissimi, per esempio Mussi, il fenomeno Ronaldo stesso, quelli un po' più datati, tipo Novellino, Marcello Lippi all'epoca di quando era giocatore, Zidane, ai primi tempi, ecco. E stiamo già alla Serie B, la Serie B comunque in uno schema sempre ordinato, tante figurine per la Serie B, tanti calciatori con titolari e riserve, e l'Atalanta era in quei periodi militante in Serie B, con il Brescia, il Cesena, il Veruna, che di lì a poco sarebbe arrivato ad essere protagonista in Serie A, il Cosenza e la Cremonese, il Genoa, anche una squadra che di solito abitudinare della Serie A, con la Fidelisandria invece che era bisogno di avere delle serie inferiori alla Serie B, Lecce, la Lucchese, il Monza e il Napoli. Il Napoli è una squadra che di lì a poco avrebbe fatto il fallimento, una delle ultime squadre prima del fallimento, ecco questa qua, il Napoli, che non è solito stare in queste serie inferiori. Pescara, il Ravenna, e poi Reggiana e Regina, come abbiamo visto questa coppia affiancata in tanti album, ma anche degli anni, delle annate precedenti, e un'altra squadra nobile decaduta in Serie B, il Torino, affiancato alla Ternana, addirittura con un buon calciatore, probabilmente un ottimo calciatore Lentini, che però non aveva deluso le aspettative. E poi ancora Treviso e della Sveruna. Siamo alla Serie C1, che come dall'edizione prese precedente porta più pagine, serie C1, girone A, con appunto quattro pagine, così come la Serie C1, girone B, con quattro pagine dedicate, un po' larga come impostazione, e abbiamo addirittura anche la Serie C2, con più pagine. Serie C2, girone A, due pagine, due pagine per ogni girone della Serie C2. Ottimo come spazio dedicato alle categorie inferiori. Oggi ricordiamo che la Serie C2 non esiste più. E poi abbiamo la parte statistica in conclusione dell'album dei calciatori, molto breve, in due pagine, con le coppe europee e con il campionato europeo delle nazioni. Si chiude l'album, anche quest'album, con la pubblicità dell'Almanacco, che in qualche annato è mancato. Quando era uscito l'Almanacco si era quasi sempre pubblicizzato in ogni album dei calciatori. Poi andiamo a chiudere con la copertina retro, con la pubblicità, una pubblicità dell'abbinamento Kinder e Ferrero alla Panini. Ecco, più che altro si pubblicizzava, oltre che il Kinder e Ferrero, l'abbinamento di queste ultime aziende con le figurine Panini. Vi ringrazio per l'attenzione. Se volete vi illustrerò tutti gli album fino all'ultimo uscito. Se volete seguirli potete iscrivervi al canale, mettete un mi piace a questo video. Ci sono tanti video anche diversi da questi, però se vi piacciono questi c'è la playlist dedicata proprio alle figurine Panini, un'altra playlist dedicata alla storia del calcio, che a partire dalla figurina noi sviluppiamo, però anche la storia del calcio in generale. Vi ringrazio tutti i miei follower e anche i nuovi visitatori occasionali. Alla prossima.